E' passata l'emozione del debutto? Sì, sì, è passata. Penso fosse stato inevitabile, comunque era la nostra prima Olimpia, la nostra prima partita, ci sta, insomma, che eravamo un po' tese, penso sia normale. Il messaggio più bello che ti è arrivato e i complimenti? No, i messaggi più belli sono quelli dei miei genitori, perché sono quelli più veri, quelli più sinceri e a cui tengo di più. Ti hanno scritto? No, complimenti, comunque, insomma, abbiamo rotto il ghiaccio e sicuramente, insomma, andrà sempre meglio man mano che andiamo avanti. Dimmi due cose sulla partita di domani. Siamo tranquille e comunque oggi alleneremo determinate situazioni, insomma, per gestire la tattica di domani e entreremo in campo, insomma, con la massima aggressività, perché è proprio con queste squadre che basta poco, insomma, non bisogna mai rilassarsi. Seconda partita dell'Olimpiade, come sarà? Sarà una partita molto più, penso, più simile a quella dell'Uortura adesso, perché ormai il ghiaccio è stato rotto, quindi non sarà sulla carta difficilissima, ma bisognerà rimanere concentrate. Sarà ancora di più l'effetto pubblico intorno? Vi piace giocare in questo stadio così pieno? È bellissimo, a me mi dà una carica enorme, non vedo l'ora di tornare dentro a quel campo. Vi siete rifatti lo smalto? Eh beh sì, siamo in fase di lavorazione, perché siamo arrivati in ritardo, però non faremo noi di nuovo. Presente la partita di domani con gli inglesi? Domani è una partita importante, è una partita che sulla carta noi siamo favoriti, però dobbiamo essere bravi a confermare questo favoritismo con l'azione effettiva in campo, quindi dobbiamo ottenere un ritmo alto, non sottovalutare loro e fare il nostro gioco. Ti aspettavi l'esordio che andasse così? È andato meglio o peggio di come c'è stato qualche rischio? L'esordio in giochi olimpici è sempre una cosa particolare, sicuramente abbiamo sbagliato un po' di più che la normalità, noi siamo una squadra che di solito sbagliamo molto poco, però siamo stati molto bravi a avere la pazienza per trovare l'equilibrio emozionale, per trovare il cammino, pazienza per ritrovare il match in mano. Noi sono stati molto bravi a questo, veramente erano una partita molto difficile. Ho visto anche altri risultati un po' strani, quindi vuol dire che l'emozione colpisce anche le squadre più forti. Parliamo anche tra gli altri allenatori, veramente quando si arriva a cinque cerchi, particolarmente c'è un'emozione in più, gli errori veramente aumentano tanto, giustamente per questa particolarità delle emozioni, quindi i giochi dimostrano questo. Tutti i giochi equilibrati, con due a uno si definono con due paloni in più. Una cosa più tecnica, la tattica sta diventando sempre più importante anche nel beach volley. Fondamentale direi, la tattica ha veramente tutti i dettagli, fa con chi si può esplorare, perché il beach volley è un gioco di scacchi e con la giusta tattica, con le giuste informazioni ti permette di elaborare la giusta strategia.